Stamane l'Agropoli ha effettuato l'ultima seduta di allenamento prima della gara di domani al Pastena con la Battipagliese. Ancora in dubbio Tarallo, il suo impiego sarà deciso all'ultimo istante. Da verificare anche Ciolli che però ieri ha effettuato un lavoro leggero, ma calano le sue possibilità di un impiego da titolare. Panini ormai recuperato si contenderà un posto al centro della difesa con Cuomo. Trittico di gare con la Battipagliese domani, il Bisceglie in Coppa mercoledì e la capolista Torrecuso domenica prossima al Guariglia. Tre gare decisive per il prosieguo del campionato dei Delfini. Mister Pirozzi a fine seduta così dichiara Ci siamo allenati bene, anche se è stata una settimana particolare. Ho qualche problemino con gli infortuni, ma siamo sicuri di fare bene al Pastena. Ci attendono gare decisive, ma come ho sempre detto, ho fiducia nel mio lavoro e in quello del mio staff. La società ci avvicina e ci fa sentire la sua fiducia. Abbiamo tutto per far bene domani.